Maltempo consiglia unanime su azioni immediate a sostegno delle popolazioni colpite. A San Miniato dall'11 novembre la mostra a mercato del tartufo bianco. Emergenza alluvione. Un minuto di silenzio per le vittime del maltempo che nei giorni scorsi ha flagellato la Toscana ha aperto la seduta del Consiglio regionale. A chiederlo il presidente dell'Assemblea Antonio Mazzeo che ha elencato in apertura dei lavori i nomi delle vittime. Sono giorni terribili per la nostra regione ma io sono certo che con l'impegno di tutti e dando risposte concrete non è oggi il tempo della polemica, l'ho detto a tutti i capigruppo. Io mi auguro che in aula non ci siano polemiche, scambi di accuse incrociate ma solo proposte per dare risposte credibili alle cittadine e ai cittadini della Toscana. Io sono convinto che se faremo questo tutti insieme ci rialzeremo più forti di prima. E mentre si fa la conta dei danni già si pensa alle misure per la ricostruzione. Sono una decina gli atti approvati dal Consiglio con cui l'Assemblea chiede interventi urgenti a favore di famiglie e imprese delle aree colpite dal nubifragio, risoluzioni e ordini del giorno presentati da tutti i partiti e collegati all'informativa fatta in aula dal presidente della Toscana Eugenio Gianni. Ho cercato di spiegare come questo evento sia stato determinato da precipitazioni così forti che non c'erano state nella concentrazione delle 6-7 ore nemmeno il 4 novembre 1966, il giorno dell'alluvione di Firenze. E queste precipitazioni così forti si sono sviluppate in un territorio così ampio che ha visto 5 province della Toscana coinvolte, che ha visto per morire 8 persone. Oggi le emergenze sono quelle di chi sta lì nel fango, sono quelle dello smaltimento dei rifiuti, sono quelle dello smaltimento dei riquami e degli spurghi, sono quelle di ricostruire il tessuto da parte del nostro genio civile, delle nostre operatività sulle strade, sulle piazze, sugli argini dei fiumi, sui ponti. Ecco che da commissario mi sento di ringraziare tutto il volontariato organizzato, le forze dell'ordine, coloro che tecnici della protezione civile dei vari settori o membri dalle colonne mobili che vengono dalle varie regioni si stanno impegnando e si stanno dando da fare proprio perché dall'emergenza si passi alla ricostruzione con una Toscana che sappia ripartire come è nel nostro carattere e nella nostra forza. Ora quello che dobbiamo fare è individuare i comuni maggiormente colpiti, rendere agenti operativi del commissario, del sottoscritto, i sindaci di questi comuni che devono provvedere a fare la ricognizione dei danni alle persone e alle imprese e sotto questo aspetto, dopo questo elenco, noi possiamo incominciare a passare la liquidazione delle prime risorse per poter risarcire coloro che hanno avuto danni alle case, alle abitazioni, alle imprese, ai laboratori, ai luoghi dove si lavora. Negli atti approvati dal Consiglio si chiede allo stanziamento di adeguate risorse da destinarsi a sostegno delle popolazioni colpite, di agire in materia di sospensione dei mutui alle imprese danneggiate e di prevedere un unico ammortizzatore sociale emergenziale in favore dei datori di lavoro. Ovviamente è inevitabile chiedere al Governo aiuti sostanziosi che possono aiutare sia le famiglie sia le imprese a ripartire, quindi anche un messaggio di speranza, di aiuto e di vicinanza. La prima cosa è il cordoglio alle famiglie che hanno perso i propri cari, abbiamo saputo poco fa della notizia di ritrovamento dell'ottava vittima, e quindi ci stringiamo davvero a fianco di queste famiglie. Noi proviamo a dare una mano, come Regione Toscana è già stato annunciato, anche il congelamento dei mutui, la sospensione delle bollette, poi c'è bisogno di liquidità per le imprese, quindi di far ripartire le imprese che hanno bisogno in questo momento di liquidità per riprendersi, ci sarà bisogno di ristori per le famiglie. Il Governo ha annunciato nella parte dell'export alcuni finanziamenti, di 100 milioni da subito e 200 milioni per quanto riguarda la parte degli incentivi per i finanziamenti. È evidente che questa è una piccola cosa, ma dovremo lavorare per tutto il comparto, non solo export, ma per tutte le aziende. Ancora è difficile fare una quantificazione dei danni, si parla oltre di 2 miliardi, nelle prossime ore avremo un quadro più preciso e riusciremo anche a definire come Regione cosa chiedere al Governo e come la Regione Toscana può dare una mano e mettere in campo oltre a quello che già stiamo facendo altre risorse. È chiaro che laddove ci sono delle scadenze fiscali, quindi penso alla rottamazione, penso alle scadenze legate al pagamento degli acconti, penso alle scadenze legate al pagamento dei mutui. È chiaro che in questa situazione congelare quantomeno questi obblighi sia naturalmente doveroso. È chiaro che il tempo che ci vorrà a ritornare alla normalità, che sarà sicuramente lungo purtroppo, richiederà anche delle misure che abbiano un respiro più lungo. Su questo naturalmente sia a livello regionale ma sicuramente anche a livello nazionale non mancherà il sostegno del Governo, quantomeno per una moratoria su scadenze fiscali e mutui bancari. È naturalmente un sostegno maggiore rispetto a quelli che saranno gli oneri per la ricostruzione. Oggi sono stati stanziati 5 milioni. Credo che l'entità dei danni davvero sofferti sia dal punto di vista delle infrastrutture, dai privati, dalle aziende, richiederanno uno sforzo economico molto maggiore e spero che anche la Regione Toscana, oltre al Governo nazionale, metta ulteriori risorse in campo. Due le risoluzioni di Forza Italia approvate. Una chiede che sul piano di gestione del rischio alluvioni, Gianni sia attivi affinché il ciclo di pianificazione previsto venga definito e l'altra per consentire alle attività commerciali, vendite promozionali e saldi in derogo alle disposizioni regionali. Un altro atto, affirma Italia Viva, punta sulla realizzazione di casse di espansione anche per i reticoli minori. Il Movimento 5 Stelle chiede alla Giunta regionale di intervenire celermente sulle segnalazioni riguardanti i rischi sanitari della gestione dei rifiuti e dei fanghi e di farsi promotori affinché sia individuato con tempestività un commissario alla ricostruzione, con adeguata conoscenza del territorio. Proprio sulla nomina di Gianni come commissario straordinario per l'emergenza e sull'eventuale incarico per la ricostruzione non sono mancate le polemiche i voti in risposta. Gianni si sta muovendo bene, questo è il primo punto di vista mio come forza politica per quanto riguarda la fase emergenziale, come bene si stanno muovendo i sindaci del nostro territorio con una grande cultura di appartenenza, bene si sta muovendo l'assessore della protezione civile Monia Moni, quindi un ringraziamento alle istituzioni presenti nel territorio, ovviamente forze dell'ordine, ovviamente sistema diffuso di protezione civile, volontari, angeli del fango e non solo, credo che non esista persona migliore che Eugenio Gianni, che è il Presidente, che una volta in grado di intervenire sulla fase emergenziale possa poi anche favorire la fase della ricostruzione, ma siamo ancora in una fase emergenziale, siamo ancora nel definire gli interventi urgenti da dover affrontare e credo che servano invece maggiori risorse, quindi quello che chiediamo al Governo è distanziare subito altre risorse e se possibile di impegnare maggiormente l'esercito nei nostri territori e nel contempo ringraziamento. Va a tutte le colonne mobili delle altre regioni italiane che si stanno impegnando in Toscana. A breve arriverà la variazione di bilancio, l'ennesima variazione di bilancio che denota un'assoluta mancanza di programmazione da parte della Giunta Gianni. Quello che voglio dire è che noi abbiamo da tempo sollevato delle perplessità su questo modo di comportamento del Governatore, che non sempre peraltro ha la presenza dovuta in Commissione per spiegarci determinati provvedimenti. Noi diciamo con chiarezza che le risorse che non hanno carattere strutturale previste in questa variazione di bilancio dovrebbero essere invece destinate a cittadini e ad aziende colpite dall'alluvione. Non solo, come Vice Presidente del Consiglio regionale, credo che si debba destinare quest'anno l'avanzo di bilancio del Consiglio regionale proprio a chi è stato colpito dall'alluvione. Quindi sicuramente indagheremo su quello che è successo e che molto probabilmente non è stato fatto, ma soprattutto dobbiamo lavorare nelle istituzioni per cercare di essere concretamente utili ai cittadini nei nostri ruoli istituzionali. È un periodo difficile per la Toscana. Lo possiamo superare se sapremo fare gioco di squadra, ma ognuno nel proprio ruolo istituzionale ben distinto, perché è arrivato il momento di dire ai cittadini che occorre davvero svoltare. Secondo noi ci sono tre impegni fondamentali. Innanzitutto che si faccia velocemente. In Emilia-Romagna sono stati attesi tre mesi prima della nomina del commissario alla ricostruzione e sono stati perse settimane importanti. Secondo, sarebbe auspicabile che fosse una persona del territorio o comunque con una profonda conoscenza del territorio. Mi viene in mente Anna Marson perché pensa alla sua legge, ma ci sono molte persone in grado, professori universitari e altri che potrebbero farlo. Terza cosa, il centro, la struttura organizzativa deve avere sede non a Roma, ma qui in Toscana, vicino ai luoghi dell'epicentro di questo disastro, perché non ci deve essere lontananza, non ci deve essere nessuna discrepanza tra quello che è il vissuto, il vedere quotidianamente l'emergenza, la ricostruzione che va avanti e quelli che direttamente vi devono operare. Questo è contenuto all'interno della nostra proposta di risoluzione. Da Fratelli d'Italia arriva infine la richiesta di istituire una commissione d'inchiesta su quanto accaduto. Passata l'emergenza, la politica dovrà rispondere ai cittadini in maniera seria, ha detto il capogruppo Francesco Torselli. In questi giorni abbiamo incontrato, sentito, ascoltato decine e decine di toscani che ci rivolgono tantissime domande, qualcuno in tono dismesso, qualcuno in tono disperato, tanti giustamente in tono arrabbiato. Ci chiedono se avremmo potuto fare di più, se la regione toscana ha fatto tutto quello che era nelle proprie corde per evitare questo disastro, ci chiedono se il consorzio di bonifica a cui si pagano i tributi ha fatto il proprio dovere, se la protezione civile è stata coordinata bene, se sono stati fatti i soccorsi in tempo celere. Tutte domande giustissime che abbiamo scelto di non affrontare in questo momento, ma io ci metto la faccia e spero non solo io, ma spero che lo voglia fare tutto il Consiglio regionale. Finita l'emergenza noi abbiamo il dovere di stabilire, di istituire una commissione di inchiesta regionale su quanto è accaduto, non per fare la caccia alle streghe, non per cercare i colpevoli, quello lo fanno altri. Il nostro compito è quello di cercare la verità. Noi dobbiamo fare una commissione, mi auguro che non sia un'iniziativa soltanto dell'opposizione, ma che sia un'iniziativa di tutto il Consiglio regionale. L'opposizione può farlo in autonomia una commissione di inchiesta, ma mi auguro che non nasca come commissione di inchiesta di opposizione, ma che sia condivisa da tutti e che sia volta alla ricerca della verità. Perché queste domande che oggi i cittadini ci fanno e alle quali non è giusto rispondere oggi, perché sarebbero risposte di pancia, poco studiate, poco avvalorate da dati concreti. Ma è giusto che prima o poi i nostri concittadini abbiano queste risposte. Io sono convinto che dobbiamo fare un approfondimento, sono altrettanto convinto e firmerò quando il Presidente Torselli ce la porterà alla commissione di inchiesta, perché i cittadini, non la politica, ha bisogno di avere risposte, ha bisogno di capire se nella cinghia di trasmissione qualcuno ha commesso degli errori. Qui non stiamo a cercare un colpevole. Vogliamo semplicemente capire, perché lo dobbiamo alle imprese, alle famiglie, a coloro che sono rimasti senza casa, a coloro che hanno perso il lavoro, a coloro, ci sono anche otto vittime, è bene non scordarlo mai a causa di questa alluvione, ci sono imprese colpitissime, c'è un distretto intero della nostra economia che straffra Campi, Capalle e Prato, che è un distretto che è colpito, che ha subito, forse fra un anno riusciremo a fare il conto dei danni, ma quasi un miliardo di euro di danni. Quindi è bene che si aiutino le famiglie, è bene che il Governo faccia quello che deve fare, è giusto e già dopo due giorni abbiamo portato 300 milioni di euro come Governo del centro-destra, però è altrettanto giusto che si faccia chiarezza su quali sono le responsabilità, se ci sono state. La mostra mercato del tartufo bianco Novembre a San Miniato è il mese del tartufo, una tradizione ormai lunga più di mezzo secolo che si rinnova anche quest'anno con la 52esima edizione della mostra mercato del tartufo bianco, un'edizione ricca che si svolgerà negli ultimi tre fine settimana del mese, dall'11 al 12, dal 18 al 19 e dal 25 al 26 novembre. Il tartufo è un'eccellenza della nostra terra e dà il senso di quanto sia importante mantenere vivo, mantenere salubre il nostro territorio. Il buon tartufo nasce dove il territorio è tenuto bene. È bene il titolo che ha scelto il Comune di San Miniato, San Miniato Promozione, che pone al centro il tema della sostenibilità ambientale. Solo con iniziative rivolte alla sostenibilità ambientale si può produrre un tartufo sempre migliore. Permettetemi di ringraziare San Miniato Promozione, il suo presidente Marzio Gabbanini, il sindaco Simone Giglioli, di ringraziare le tante volontarie e volontari che opereranno in quel weekend, ma soprattutto i tanti tartufai. Svolgono un lavoro enorme, a volte molto nascosto, ma anche per mantenere vivo e salubre il nostro territorio. A novembre le piazze della città, raggiungibili grazie al servizio navetta, ospitano spazi dove assaggiare e acquistare i migliori prodotti con il tartufo bianco delle colline San Miniatesi. La città si trasforma in un laboratorio del gusto a cielo aperto, dove chef di fama uniscono prodotti biologici a chilometro zero con le migliori ricette della tradizione per nuove esperienze culinarie. La cerca e cavatura dal 2021 del tartufo è stata addirittura proclamata Patrimonio Immateriale dell'Umanità Unesco. Negli anni molti personaggi famosi sono stati insigniti col titolo di ambasciatori del tartufo bianco di San Miniato, da Giorgio Napolitano a Enrico Letta, da Cristiano Ronaldo ad Andrea Bocelli. Noi organizziamo la mostra quest'anno con una soddisfazione in più. Proprio ieri un nostro chef ha vinto a Colagna, una gara importante è andata in finale con Alba e ha vinto. Questo ci dà la carica perché per quest'anno siamo la capitale italiana del tartufo, perlomeno relativamente a questo premio. Il tartufo è la terza gamba dell'economia di San Miniato, per cui noi dobbiamo organizzarla sempre meglio perché le ambizioni per il nostro tartufo merita di davvero avere un ruolo importante non solo in Toscana ma anche in Italia. Dunque la mostra quest'anno avrà una caratteristica importante. Si caratterizzerà per essere allungata, cioè tutto il centro storico sarà interessato. Arriviamo ora fino alla piazza più lontana e con tante iniziative dove appunto la parte fondamentale la farà il tartufo. Il tartufo è tutti i prodotti tipici della nostra bellissima città che è città d'arte, città di cultura, città di tradizione ma anche città di tipicità enogastronomiche importanti. Grazie per la visione!